E' stato molto difficile raggiungere questa comunità perché ha piovuto diverso tempo, siamo rimasti bloccati due giorni in un paese, però alla fine siamo arrivati in bus, in macchina, in moto e anche a piedi alla fine, facendo un autostop, è stato molto avventuroso. Comunque è andata così, siamo arrivati all'interno della foresta e qua loro si sono preparati per farsi vedere com'è la loro danza e com'è la loro musica e più che altro è stata una dimostrazione di come loro vogliono mantenere e preservare questo idioma e questa cultura indigera. Sei riuscito però a mandarci il contributo che hai inserito anche nel tuo blog ilcaminodalamusica.it e che ci ascoltiamo esattamente è un passaggio quindi di questo spettacolo, di questa danza che hanno messo in scena un po' per te quindi credo. SONTRE 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 La mia famiglia è in portoghese, la nostra famiglia è la nostra famiglia, che ci mostrò un canto di danza che viene da generazione a generazione, passiamo 9 mesi nella nostra aldeia, e ci siamo riusciti per il nostro ritiro religioso, che solo noi indiani non possiamo entrare, e noi siamo riusciti, significa che non siamo riusciti. La ultima musica che il gruppo cantò, è grazie a voi che venivano e venivano e venivano a nostra famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, dia non, l'armi la voglia è la nostra famiglia, non è la mia famiglia, ma sempre la nostra famiglia, in cui è sempre la nostra cultura, in cui è la nostra famiglia è la famiglia. Grazie a tutti.